Questo non è un agriturismo? No, errores. Questo non è agriturismo, questo è, come dire, gasolar de noatri. Guarda, Fava, che non basta mettere l'S per parlare spagnolo. Ma intanto capisce lo stesso. Entiende ugualmente quello che dico, anche se non hablo proprio perfettamente l'espagnolo? Un pochito, eh? E che buffate voi qui? Eh, mio fratele? No, questo è la fine. Eh, mio fratele, come vai? Vosotros qui in Italia? Nosotros estamos qui perché siamo ballarini di flamenco. Conocevi il flamenco? Vosate di Madrid? Tutti di Madrid. Vosotra sois di Madrid. Io sono catalana. Catalana? Quando è la catalana? Signora, in modo di dire, non esiste mica. È come dire l'Atalanta, la Sampdoria. Non esiste mica l'Atalanta. No.